Si guarda al Teatro Comunale Bucci e soprattutto al fatto che siamo, come dire, pronti per ricominciare i lavori e completare l'ultimo intervento del nostro teatro comunale. Siamo riusciti ad andare in gara entro la fine dell'anno, quindi entro il 31 di dicembre, che era la data posta per poter avere anche un rimborso del 10% sul caro materiale, un quadro economico complessivo di oltre 4 milioni di euro. La gara si chiuderà ufficialmente a fine gennaio, dopodiché cominceranno tutte le istruttorie da parte degli uffici per individuare il soggetto aggiudicatario della gara. Dopodiché entro il giugno del 2023 dovranno partire i lavori, lavori che dureranno complessivamente dal cronoprogramma 18 mesi, per cui orientativamente tra fine 24 e primavera del 2025 dovremo avere il nuovo Teatro Comunale Bucci aperto. Il giugno si è un termine proprio obbligato dal cronoprogramma PNRR, perché comunque il grosso delle risorse per fare l'intervento sul Teatro Bucci viene praticamente dal PNRR. Vorrei spendere appunto un ringraziamento in questa circostanza alla Regione Toscana, perché con un contributo importante di 800 mila euro che ci ha assegnato a fine 2022, ci ha consentito di chiudere in via definitiva il quadro economico. È stato un progetto che ha guardato soprattutto alla qualità, perché come dicevate voi prima, si tratta di un teatro, ma di un teatro di vallata, di territorio, un teatro che ambisce ad essere e a rivestire un ruolo anche a livello provinciale, per cui si guarderà primariamente proprio alla qualità.